ciao ragazzi ben ritrovati su life is strange 2 continuiamo il gioco ma prima di tutto come eccoci ragazzi dopo il casino che abbiamo fatto nell'ufficio del bus che caspita è successo Daniel è stato ferito ha fatto un bordello dei suoi e guarda quali soldi cominciamo a raccattare un po di soldi e andiamo in messico secondo me ma non è vero guardiamo un po non mi fate piangere anche in questa puntata per favore allora il boss è a terra presumo stettito non c'è sì c'è sì spingere te prego no c'è ancora tutto grazie a tutti I did it all for you Don't say I never tried I wanna protect you So that you never die I did it all for you Don't say I never tried I wanna protect you So that you never die No deal This is it, son You're toast End of the road Con chi stiamo parlando? Dov'è Daniel? E siamo di nuovo nella foresta Scoiattle Cioè stiamo tornando indietro? Torniamo a casa Come se non fosse successo niente Allora Sean Si è tagliato i capelli Nel frattempo È ferito Ah ma allora c'è Danny No Aspetta I'm sorry I didn't mean to It was a bad idea Daniel No way It's all good Io penso che questo sia passato No I was too pissed It's okay, dude You're my brother And that's all that counts So Why don't you come and get me? I'm alone, Sean I don't know what to do I'm scared Don't get so close to that edge Please Come and get me Yes I swear Stop Oh porca piattola Come in ospedale Io ho la pelle d'occa Giuro Giuro Due mesi dopo l'esplosione Allora Vediamo se c'è qualcosa di utile No 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 I miss Cass so much Wish I could hold her Okay ok sono rimasti in 3 il meraviglioso tatuaggio che ci ha fatto lei ok che c'è scritto che culo successivo daniel non si trova i nonni hanno scritto ci manca che è ok disegna che disegniamo non mi pare ci sia molto da disegnare qua guarda com'è carino scionco i capelli rasati si ok cosa guardiamo certo se non ci muoviamo non vediamo niente e caro non è che ci sia un qua dai ok torniamo sul foglio allora ritorniamo dai dai ce lo possiamo fare anche se sei un po' cecato guarda 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 vedi sei bravissimo guarda guarda questo è bravo disegna una scalinata quindi dobbiamo guardare in là per disegnare la scalinata ecco e scappiamo speriamo non in cielo ok ragazzi alzare ci si può alzare no che famo biglietto da visita immagino la pallina niente mangiamo e ragazzi io non so che fare chiama ah chiama flores la gente campanello abbiamo chiamato eh qualcuno ci caga qualcuno ci caga ciao 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 Oh. Socket pain. No. It's all good. Well, this is your final test before. You know. Andiamo in galera. Check you out. Check me out to jury. Yeah. Okay, let's see. You know the drill. Don't blink and just stare at the light. Yes. Nice retina response. Okay. Now. Try to follow the light as well as you can. Aspetta. Aspetta. No, aspetta però. Dai, mi sento anche io dall'uculista. Aspetta. 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 Non ho capito. Tieni premuto per fissare la visuale e per muovere il braccio. Cosa dobbiamo fare? Aspetta. Aspetta. Ce la faccio. Ce la faccio? Aspetta. 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 Si. Ce la faccio. Aspetta. Ce la faccio? Aspetta. Ma prima, cerchiamo questa dressa. Sì, spero che sei guardato la porta come il telefono. Come on, non è andato a non andare. Alla faccio è guardare. Sì, è vero. Tuo lavoro. Sì. Sì, se vuoi parlare soli? Sì, se finisce con il mio paciente? Sì, sembrava bene per ora, certo? Sì, vieni quando è finito con lui. Sì. Ciao, caro. Salve, agente. Se comodi pure. Da di là. Sì, è vero. Hai trovato Daniel? Voglio andare in questo nuovo. Sì, è vero. Sì, è vero che stai dicendo la stessa storia per tre settimane. Sì, quanto più lungo? Sì, è vero. Sì, è vero. Sì, è vero. Sì, il silenzio non va aiutare te adesso. Sì, senti fermi, Sean. Sì, te voli a Giolina's shore e tu sarai in giù per la scuola per la scuola di un giro 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 di un giro. E tu forwardi un giro di 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 un giro. E tu non si chiara l'all asko? Non, non, non ci sono sono. E the termina? E tu opinioni? Può ne posso. comici da mal' È proprio... Sì, è vero. È proprio... Sì, mi sono scusate? E' un ufficio che fu fuori e lo scusate! In fronte di me e Daniel! Sono proprio sbagliato di essere... chi lo sape. Mi sento, ma... Tu sei sicuro che non si è scusato e si chiede il ufficio? È vero. Jesus, no! Guarda me! Ok, adesso andiamo. Dicami cosa succede in quella farm in Humboldt. Il posto sembrava che un tornado ha scoperto. Ti ho detto così molte volte. Non ho capito perché il posto è scoperto. Mi scoperto. Plus, tre seriosamente scoperte, e con te. E un bambino morto. Nessun'estatement di chiunque. Sean, mi ha fatto un bambino. Non vedete che voglio aiutare? Tanto no, non ci credi. La roba. Questa idea? Sua? O tua? Ci prendiamo la colpa, diamo la colpa a Finn. Dai, tutti quanti insieme. Sovra. No. 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 Cassidy... No. 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 ...or learning the hard way. They didn't deserve it. We all make mistakes. Yeah. Well, some mistakes are worse than others. By the way, we contacted your grandparents in Beaver Greek. They can visit you after you're transferred. Might be a while, but you do have a support group. We couldn't track down your mother, though. Sorry. Good. What about Daniel? You said you had leads. I said might. Hold on. I gotta take this call. Telefist, cosa ha lasciato qua? Guardiamo. Sorry, Finn. She didn't want anything to do with this. Wonder what Meryl told the cops about the robbery. Sorry, Hannah. Hope the cops didn't mess with Penny. Person would fuck him up. They didn't want anything to do with this. Okay. But now, if you go to the telephone, what? Good. 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 che facciamo? ma se io scendo no? l'fiburo ha messo il profilo nel quattro città, quindi siamo nel caso tu hai scopo con me, tu non hai alcuni legati, tu non hai idea dove mio abrò è non mi scopo, Sean, ma tu hai scopo, e il tuo abrò è pagato il prezzo cazzo è il pigiamino che mi ci hai sembra già un carterato, ecco la testina così rasata devo guardare la guarda, ora amo senti, così possiamo andare a fare questo show quindi come è la sua intervista con Sculli? tu vuoi interrogazione? chi lo sa? magari Detective Flores vuole aiutare magari non non direi non 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 Il risultato è venuto bene, solo devi mantenere la propria settimana per la prossima settimana, semplicemente. È fantastico. Voi vedere il risultato questa mattina? Che diceva? Niente che voglio sentire, questo prenderà tempo in rehab, Sean. Hai bisogno di processare prima. Non posso dire quella cosa. Sicuramente, non sono un terapista, ma... Io ho curato i pazienti con la tua malattia. Ci hanno diventato l'angere in energia. Tu dovete anche. Eh, speriamo. Sì, dai. Siamo positivi. Speriamo. Questo è l'ultima volta che ho sentito questo da me. Tu devi pulirla con le galle di sterile e la soluzione di saline. Va bene. Mettimi questa bella benda da pirata. La pomata. Sì. 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 Ci vediamo nel prossimo video. Ciao. Ciao. Ciao.